buonasera salve amici e amiche oggi tanta roba c'è tanto di cui discutere vi porterò come sempre alcuni spezzoni della televisione russa giusto per ridere poi parleremo degli aggiornamenti del fronte dei soldati nordcoreani in russia degli aggiornamenti che sono arrivati parleremo di politica estera alcune dichiarazioni interessanti poi ci saranno anche dei discorsi sulle donne ucraine e anche dei discorsi storici che ho ripescato e che vale la pena riportare quindi mettetevi comodi come sempre prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale qui sotto al video trovate i pulsanti per iscrivervi attivare la campanella lasciare un mi piace questi tre gesti sono gratuiti e aiutano tantissimo il canale a crescere quindi iniziamo con l'equivalente del dirai uno in russia un po il canale principale che ci delizia come sempre di cose superbe sentiamo che dicono se parliamo della guerra della nato oggi se si parla di missili a lungo raggio il primo attacco sarà su questo posto qui incluso che proprio questo studio scusate ma mi fa troppo ridere secondo questo soggetto un attacco nato sarebbe proprio in quello studio lì ma voglio dire scusate è un'idea abbastanza condivisibile voglio dire non ha nessuna valenza strategica però data la quantità enorme di cose che hanno detto fino ad oggi quantomeno ecco non utilizzerei una vera un vero missili da crociera però ecco non so se vi ricordate qualche anno fa ci fu la protesta per il latte ecco sarebbe bello arrivare lì con un trattore e spargere le tame per coprire l'intero studio questo penso che sarebbe la risposta più adeguata per questa emittente russa comunque il tizio continua e dice si incluso qui prenderanno di mira proprio questo studio la domanda è ci arriveranno o no a lui dice di essere un militare ecco fra l'altro questo apro una piccola parentesi voglio dire perché in questi quasi tre anni di conflitto anche da noi vengono intervistati spesso militari ora la mia idea è che un militare può aver fatto un percorso di studio può avere per carità una grande cultura una grande esperienza però spesso sono specialisti cioè loro conoscono molto bene il loro territorio di competenza e magari non hanno una visione ampia geopolitica non è detto che ce l'abbiano quindi almeno se poi parliamo di militari russi sappiamo benissimo che ci sono ecco grandi limiti comunque lui dice come militare posso dirti che la difesa aerea non abbatte il cento per cento dei missili che ci colpiscono forse il 99 per cento su cento uno di loro colpirà e dobbiamo essere sempre preparati a questo geniale sì stai proprio tranquillo che su cento che ve ne lanciano uno passa non credo proprio penso che la percentuale sia molto più alta visti i successi degli attacchi ucraini degli ultimi mesi con semplici droni quindi sì evidentemente questo militare russo almeno lui dichiara di essere un militare e penso che lo sia evidentemente non ha la minima idea della capacità tecnologica della nato dell'europa in termini di missili da crociera e a lungo raggio insomma è molto ottimistico il suo ragionamento però ecco sicuramente l'equivalente di rai 1 con un bersaglio con un missile caricato all'etame ci sta fatemi sapere cosa ne pensate allora partiamo subito con gli aggiornamenti che riguardano il fronte e in particolare dalla regione di kursk dove arrivano informazioni da entrambe le parti e c'è attività intensa come vedete il numero di rapporti sono tanti faccio vedere le date qui in alto a sinistra il 21 il 21 vedete questi sono gli ultimi rapporti il 18 il 20 questo tentativo russo di penetrare all'interno della zona occupata dagli ucraini si a quanto pare si è un po arenato ci sono stati combattimenti mezzi russi distrutti questo per esempio ieri questo per esempio è un carro armato ucraino che ha distrutto questo mezzo ci sono i rapporti dronici geolocalizzati il 21 un mezzo ucraino perso questo ieri un video di un assalto di un mezzo ucraino che colpisce le opposizioni russe quindi sappiamo insomma che la situazione è molto dinamica gli ucraini si sono ritirati questo l'ho già riportato ieri durante la notte dell'altro giorno da questa posizione da questo villaggio i russi vi hanno già posizionato la bandiera giusto stamattina però nel frattempo gli ucraini stanno contrattaccando e come vedete il contrattacco ha avuto anche discreto successo eliminando alcune posizioni russe la situazione quindi qui è molto dinamica come vedete c'è stata attività anche in quest'altro punto di questa regione e sappiamo che i russi stanno anche spingendo da da est proveniendo da est in queste due direzioni quindi da più punti quindi come ripeto la situazione qui è in divenire e non mi stancherò mai di ripeterlo in quest'area gli ucraini tendono a svolgere attività dinamiche quindi con i reparti che si muovono velocemente quindi è anche molto difficile fare dei rapporti precisi cosa che invece possiamo fare in tutto il resto del fronte per esempio se andiamo a vedere la zona di kharkiv a nord di kharkiv la zona di voynchansk ellipsi queste due aree questa voynchansk questa ellipsi c'è diversi rapporti da parte ucraina il 22 il 22 il 22 tutto ieri c'è stata un'intensa attività dronica ucraina che sia il preludio di qualcosa vedremo lo spero una nuova avanzata nella regione di belgorod questo potrebbe creare ancora più caos nelle file russe d'altra parte da parte russa quello che dicono anche altri analisti che seguo internazionali continuano a ripetere che i russi stanno tentando il tutto e per tutto la situazione sul campo sta deteriorando e quindi non è possibile attualmente fare molto di più nel senso il terreno sta cominciando ad essere umido è difficile avanzare nonostante questo per il problema che i russi hanno attualmente cioè da quello che ho sentito ecco lo riporto l'idea comune è che a causa delle elezioni americane delle elezioni in georgia di quello che è successo in moldavia il il cremlino sta cercando di fare il tutto e per tutto per intimidire l'occidente conquistando quanto più territorio possibile non importa il prezzo degli uomini in questi ultimi giorni il numero delle perdite tra le file russe è quasi duplicato se fino a una settimana fa partevano mille mille cento uomini al giorno siamo arrivati a toccare i 1700 ieri 1500 oggi queste sono cifre stimate e lo vediamo perché come vedete dal fronte arrivano un'enorme quantità di rapporti per i tentativi di avanzata russa fra l'altro hanno riottenuto diciamo stanno sono stati segnalati in presenza di nuovo in questo piccolo villaggio come vedete però al costo di enormi mezzi di quantità di mezzi e di vite umane questo è un piccolo indizio ma quello che succede altrove lo vedrete sarà ben peggiore quindi anche qui in questi in queste aree più a est la situazione come vedete qualche modo anche supportata ieri c'è stato un attacco aereo con delle fab e un tentativo di avanzata anche qui da parte russa nella zona poi per esempio di chasiv yar c'è stato un combattimento dove è stato distrutto due giorni fa un mezzo ucraino questo è indice che i russi stanno cercando di spingersi in questa posizione e qui fra l'altro non si segnalano attività questo potrebbe cambiare domani vediamo se arrivano rapporti perché dopo mesi e mesi veramente tanto tempo i russi sono riusciti a oltrepassare il fiume in particolare qui in questa strada questo ponte quindi sì questa è la situazione andiamo avanti nella zona di toresk segnalo alcuni progressi da parte creina almeno questo è quello che ho letto in alcuni rapporti e questi progressi coincidono con quest'area dove vedete c'è stato un attacco il 18 e il 23 proprio questa mattina un'esplosione di una mina ora quindi la situazione è dinamica e non vorrei sbilanciarmi ma sembra almeno da quello che ho letto che le truppe ucraine stiano cercando di spingersi in questa direzione per chiudere i russi in una sacca e questo diciamo potrebbe essere verosimile considerando le attività droniche il 19 che ci sono state e gli attacchi di artiglieria quindi la situazione a toresk è in divenire e ci sono combattimenti piuttosto serrati stessa cosa nell'area di new york come vedete ci sono truppe che si arrendono altre situazioni con droni il 22 il 21 ma la situazione diciamo più grave la vediamo nella zona di pokrovsk e kurakove ora la zona di pokrovsk su questa linea i russi non stanno ottenendo risultati c'è stato giusto un piccolo progresso di qualche centinaio di metro metri qui ma nei giorni scorsi ci sono stati tantissimi mezzi distrutti lungo tutta la linea qui in quest'area i combattimenti qui sono serrati nel frattempo i russi stanno cercando di ottenere risultati verso se di dove al costo anche qui vedete un'intensa attività ucraina di sbarramento con droni il 21 il 22 questo è successo due tre giorni fa ma come vedete questo questo è il vettore di spinta russa verso kurakove non si penso che si commenta da solo tre in tre quattro giorni tutti questi sono mezzi distrutti e lo ripeto e non smetterò mai di dirlo ognuno di questi mezzi in ognuno di questi mezzi c'erano uomini tanti uomini quindi si stanno tentando il tutto e per tutto come vedete anche nella zona di vugledar poco più a est anche qui i rapporti questi sono tutti video geolocalizzati di truppe in contatto mezzi distrutti insomma in questi giorni veramente l'esercito russo sta perdendo una marea una marea di uomini 683 mila e 40 la cifra stimata da essere confermata ieri scusate l'ultimo rapporto di oggi di 1460 uomini questi sono i numeri quindi se poi parliamo di mezzi vi passo questo breve video ci mostra appunto come la russia sta svuotando o almeno ha già svuotato i suoi i suoi depositi questi sono vecchi mezzi t62 cioè mezzi che circolavano quando c'era ancora kennedy in questo deposito non c'è niente non sono più cararmatici hanno svuotato completamente questo deposito letteralmente quindi sì è comprensibile che stiano cercando di fare tutto e per tutto in questi giorni visto che non potranno andare avanti a lungo così ora ieri fra l'altro vi avevo parlato di questo video questo in basso dove si vede questo edificio perché è un video ripreso da un drone ucraino di telemetria dove è stata guidata una bomba francese su questo edificio in cui erano presenti degli operatori dronici russi è un caso particolare perché abbiamo una sorta di doppia conferma questo è sotto il video da parte ucraina e sopra un video da parte russa ed è penso un raro caso di multicamera dello stesso evento da due da due fronti diversi quello che si vede sotto è l'edificio che viene colpito in due punti quello che si vede sopra sono i soldati russi che riescono a salvarsi e scappano attraverso le scale ora andiamo avanti questo era battaglione degli infami della 155esima brigata quarta compagnia terzo platone questo era un gruppo di soldati che erano stati identificati per aver commesso atrocità in ucraina durante tutta la campagna e a quanto pare sono stati terminati in questi giorni arrivano diversi rapporti da quanto pare l'intelligence ucraina sta facendo un ottimo lavoro per fare in modo che queste persone non arrivino ai tribunali dell'aia in poche parole cercano di alleggerire un po la burocrazia perché comunque sarà lunga e sarà grande e farà il suo corso a un certo punto però di sicuro impedire a questa gente di continuare a fare le cose che ha fatto è stata un'ottima mossa restando sul tema dei crimini di guerra arrivano rapporti sconcertanti che riguardano le interviste ai prigionieri ucraini che sono tornati in patria ora non posso entrare nei dettagli non posso dire certe cose qui su youtube però il 90 per c'è più del 97 per cento dei prigionieri ucraini detenuti in russia hanno subito trattamenti disumani scusate il 68 per cento non posso dirlo ma lo sottolineo riporta altri tipi di trattamenti disumani parliamo di uomini quindi questa è la situazione andiamo avanti notizie notizie che riguarda iulia navalnaia la vedova che il marito insomma era oppositore di putin e sappiamo tutti com'è andata questa è una notizia riportata anche dalla bbc la vedova navalni ha espresso il desiderio di candidarsi come presidente della russia quando putin sarà andato il che è interessante voglio dire provate a immaginare un mondo così in cui vediamo camminare questa presidente della russia in europa a testa alta per cercare di migliorare il loro paese è un'utopia penso anzi proprio un sogno impossibile diciamo così ora parlando poi della situazione in russia come vi avevo anticipato la situazione sta degenerando nel senso che fanno fatica a trovare combattenti per la loro guerra di invasione che a quanto pare la promessa di denaro non è abbastanza visto che comunque hanno dovuto alzare i compensi hanno introdotto per esempio un bonus di 1,9 milioni di rubli sono circa 22 mila dollari 23 24 mila euro qualcosa del genere per i residenti della città di mosca che desiderano arruolarsi nelle forze armate ora è interessante questa cosa cioè a mosca chiaramente mosca è una cosa la russia un'altra cioè l'unica zona civile per modo di dire nel senso urbanizzata e civilizzata è l'area di mosca alla fine fino ad oggi fino ad oggi i 600 mila 680 mila uomini mandati in ucraina venivano prelevati dalle aree più rurali quelle più isolate e hanno evitato di coinvolgere i moscoviti non più di tanto voglio dire se non con le promesse di compensi e quant'altro si stanno alzando il il bonus vuol dire che cercano di attingere anche alle decine di migliaia di giovani che ci sono a mosca ma il discorso qual è che è oltre ai disperati che vivono nella zona urbana ci sono poi anche i figli dei benestanti moscoviti che non penso proprio che queste famiglie saranno molto contente di inviare al fronte i loro pupilli voglio dire stiamo parlando del della delle persone benestanti quindi è un bel problema fra l'altro mi collego anche a questo post che è spettacolare questa è una delle classiche cab le bombe plananti montate sotto uno degli aerei russi per una missione e sulla bomba è stata scritta questa questa questo messaggio allora dicono i piloti il pilota di un bombardiere russo ha lasciato un appello al ministero della difesa scritto su una bomba planante lamentandosi della mancanza di bonus per aver bomba bombardato il loro stesso paese sulla bomba c'è scritto caro ministro della difesa queste sono fab presto volerò per distruggere gli occupanti a kursk oblast sono arrabbiato per il mio equipaggio perché non abbiamo ricevuto il bonus per l'operazione antiterrorismo da agosto da agosto risolvete la questione post scritto si possono commettere errori ma non si può mentire insomma questo pilota c'è il dente avvelenato perché non viene pagato il giusto per bombardare la russia capito ora è un discorso particolare me ne rendo conto chiaro che no fra soldataia che viene mandata come carna da cannone e gli specialisti che fanno queste missioni c'è una differenza stiamo parlando no soprattutto in un paese dove dobbiamo immaginarci che esiste una sorta di vero e proprio chiamiamolo fascismo autocratico una cosa del genere no dove ci sono diverse classi sociali chiaramente i piloti appartengono a una classe sociale diversa dalla soldataia e quindi i piloti pensano di poter fare la loro guerra a pagamento per soldi né più né meno quindi questo ci dà un'idea dell'etica dei piloti russi ora poi mi è capitato fra l'altro passando a cambiando argomento e passando al discorso che riguarda la corea del nord sono incappato in questo video di questo personaggio italiano ora signori miei ve lo chiedo quando mi mandate mi scrivete i commenti non mi fate discorsi e ma questo canale ha detto questo e ma questo canale ha detto quest'altro soprattutto se parlate di canali italiani non me ne importa nulla dei canali italiani io non seguo youtube italia tranne qualche appunto collega che stimo e che so che fa il suo lavoro come si deve ma tolti tolte le mosche bianche e il resto non lo considero proprio non riesco io non riesco neanche a guardare youtube italia perché mi dà fastidio proprio un fastidio viscerale e quindi è inutile che mi portate degli esempi di canali italiani anche perché i canali italiani prendono le notizie da dove le prendo io se poi vogliono interpretarle a modo loro sono problemi loro cioè basta guardare ai canali internazionali per capire cosa si dice di questo conflitto è chiaro che no è un po è un po come il discorso sulla terra piatta è la stessa cosa cioè se tutto il mondo dice che la terra non è piatta e c'è tipo uno o due canali su youtube che parlano di terra piattismo ora non è che c'è da farsi prendere dai dubbi no però sentiamo cosa dice questo soggetto perché magari ecco voi lo conoscete ma io non so chi sia e non mi interessa la bandiera russa quella tradizionale che vediamo sventolare dovunque e c'è una bandiera più piccola nord coreana non avrebbero mai consentito a dei soldati nord coreani di mettere una bandiera più piccola di quella degli altri è chiaro mai mai l'avrebbero consentito quindi è un chiaro per culo dei russi agli ucraini per quanto ha detto zelensky ok e chi sostiene chiaramente che ci sono perché si beve tutte queste cose per carità arriveranno forse io sinceramente gli avrei già mandati da tempo i soldati perché perché è un'occasione ghiottissima per fare esperienza un esercito che dal 53 non fa guerra a nessuno non è un esercito preparato a fare una guerra a meno che non abbiano un programma di addestramento mostruoso che nessun altro esercito ha però la logistica e tutto il resto la fai qui sul campo quindi io sinceramente avrei mandato 30 40 50 50 mila volontari con la divisa russa ma volontari tra virgolette stessa cosa per i cinesi 200 mila volontari vuoi che non ce li abbiano 200 mila ce li hanno 200 mila volontari da mandare si fanno la loro porca esperienza perché guarda caso anche la cina non fa guerra a nessuno da una vita chi è che fa guerra a tutti da una vita i democratici paesi occidentali democraticissimi chiaramente quindi se avete sentito bene spero nel senso questo è il livello l'ho sentita già anche ieri in un commento questa idea per cui i soldati nordcoreani non sono lì per combattere in ucraina ma solo per fare esperienza ma che significa sta cosa scusatemi ma che significa chi è che ha esperienza di guerra nessuno ha esperienza di guerra da nessuna parte perché fortunatamente dalla seconda guerra mondiale ad oggi quello che è successo sono sempre state situazioni asimmetriche che guerra è ma poi questo tizio che parla dei democratici che fanno la guerra gli altri ma cioè ma stiamo scherzando cioè stiamo scherzando cioè a rare a zero un pazzo criminale come che dafi o quegli altri che hanno causato dei genocidi in kosovo ma stiamo scherzando questo è fare guerra secondo lui cioè io proprio non ecco perché non seguo youtube italia scusate ma non ce la faccio proprio a via a confrontarmi con queste idee poi il discorso cioè della logistica ma sa cos'è la logistica la logistica sono i rifornimenti e i sistemi ausiliari che ti permettono di avere consapevolezza situazionale sul campo e i russi non hanno niente di tutto questo c'è qualche drone attualmente che fa ricognizioni un po di dati satellitari ma di che logistica sta parlando che mandano le persone come carne da cannone ma c'è l'assurdità di queste affermazioni mi ha scoinvolto comunque arrivano delle conferme anche dal pentagono per quanto riguarda la presenza dei soldati coreani in russia ora questo video che vi ho mostrato è stato geolocalizzato e si trova in russia ci sono soldati nord coreani punto il pentagono ha confermato la loro presenza che con arriveranno a combattere o no è differente ormai sono lì non sono di certo lì per fare prendere in giro gli ucraini anche perché scusate no cioè se uno fa un discorso logico perché un putin avrebbe provocato gli ucraini con queste informazioni di soldati nord coreani in russia per ottenere cosa per fare arrabbiare ancora di più gli stati uniti e dare ulteriori soldi all'ucraina perché il risultato che ha ottenuto è questo cioè parliamoci chiaro il risultato ottenuto da questa notizia non appena la corea del sud ha iniziato a far passare immagini satellitari di questi soldati la reazione internazionale è stata di dare più aiuti all'ucraina quindi io penso che se questo era quello che volevo ottenere sì c'è riuscito quindi complimenti per la lo scherzone bravo ora fra l'altro lo stesso budanov ha fatto una dichiarazione oggi in cui parla dei 2600 soldati coreani che saranno trasferiti nella regione di kursk entro la fine di ottobre quindi segnatevi questa questa data vedremo se alla fine di ottobre sarà vero arrivano poi anche altre informazioni che riguardano eventuali piloti nord coreani nelle file dell'aviazione russa non saprei sinceramente è un dato che c'è stato un logoramento nell'aviazione russa e che le perdite e la costruzione di aeroplani è un problema la formazione dei piloti è un'altra non sono sicuro che i russi siano così messi male da attingere a piloti nord coreani però comunque è un fatto che i piloti nord coreani hanno già sono già formati sui velivoli russi il che è un vantaggio voglio dire se devi usarli ce l'hai costano poco non chiedono i bonus come questi quindi no ti fa comodo l'omino che è abituato a pane e acqua e non chiede niente in cambio anzi si sente pure alla grande per essere uscito dai confini nazionali che posso dire ho sentito anche daniel davidov lui parlava è un pilota fra l'altro civile quindi un po come me sa un po il fatto suo in termini di aviazione lui parlava più del fatto che probabilmente la russia ha più bisogno di piloti di elicotteri in questo momento perché le perdite fra gli elicotteri sono state più più gravi rispetto a quelle dei piloti di aerei di ala fissa comunque la corea del sud non ha preso per niente bene questa notizia stava già aiutando l'ucraina con aiuti e adesso secondo i rapporti sta valutando l'idea di inviare un contingente in ucraina ora la corea del sud è è una cosa nel senso dobbiamo considerare che la corea del sud non odia i coreani del nord odia il regime della corea del nord quindi è impegnata in una sua lotta alla sopravvivenza ormai da da quasi un secolo quindi queste sono le notizie per quanto riguarda la corea ecco di sicuro sarà interessante se ci sarà lo schieramento dei soldati sud coreani in ucraina se faranno una guerra per procura su un territorio diverso cioè un po come no combattere su un altro pianeta per loro cioè corea del sud e corea del nord si confrontano in ucraina è una situazione così surreale che è anche difficile commentare comunque più altri continuano a riportare di circa 2600 soldati della corea del nord che saranno trasferiti nella regione di kursk entro la fine di ottobre vedremo se sarà vero ah poi me l'avete chiesto ieri lei è the mastermind penso che appunto onestamente questa è una mia opinione penso che sia lei la veramente diabolica dietro la corea del nord che sia in grado di manovrare le file del governo e che sia tra l'altro non sono io a dirlo ma pare sia stata lei anche la committente del delle varie per dirla alla montalbano delle varie ammazzatine dei parenti in giro per il mondo e fra l'altro oggi ha fatto una dichiarazione dicendo che l'ucraina è il cagnolino degli stati uniti che fa tutto quello che dicono gli stati uniti e quindi se questi sono i discorsi le solite minacce quindi sì allora andiamo avanti ieri vi avevo proposto un video poi non ve l'ho mostrato quindi scusatemi questo video che viene dalla 17esima brigata ucraina che si occupa del protezione dello spazio aereo contro i droni è un video che fa impressione dura pochi secondi dove si vede un pezzo binato montato su un pick up che spara e distrugge a bruciapelo un drone iraniano sentite un po e vedete è bellissima l'esclamazione dei soldati ucraini è chiaro che festeggiano perché insomma è un drone in meno che si schianta su case ora a proposito di donne per restare sul tema delle donne ci sono donne così e poi ci sono donne così le solda soldatesse ucraine che hanno preso appunto da united 24 le ha soprannominate the witches of buccia le streghe di buccia che arrivano di notte c'è tutto un reparto di donne ucraine che fanno pilotaggio dei droni durante la notte usando i sensori infrarossi molti dei loro reparti poi sono schierati anche nei sistemi contraerei di difesa ed è un ruolo importante sono le frasi ecco è difficile leggere le frasi di questi di queste foto per me non non ce la posso fare sono troppo toccanti però ecco è interessante vedere come durante la seconda guerra mondiale le donne russe partecipavano alle azioni militari anche come piloti ci sono diversi rapporti è una storia non raccontata perché come devo dire sì da una parte l'unione sovietica al tempo arrollava anche le donne tutto bello eccetera eccetera ma non sempre le cose la collaborazione con gli uomini andava come doveva andare ecco cercate di leggere sopra le righe però ecco io mi ricordo per esempio il libro di hans ulrich rudel pilota di ferro la storia di un pilota tedesco che appunto schierato sul fronte russo raccontava che di notte spesso arrivavano questi aeroplanini che sganciavano le bombette sui campi e queste si diceva che fossero le streghe della notte quindi oggi è interessante vedere come le streghe della notte sono ucraine fa riflettere questa cosa bene andiamo avanti un'altra notizia interessante che riguarda l'aviazione ucraina continua l'affiancamento è la formazione dei piloti ucraini in inghilterra ed è lì che si formano insieme ai migliori piloti dell'european area group le attività di volo sono intense e continuano nella loro formazione penso che sia essenziale per abilitare per fare in modo che questi piloti entrino in un discorso a lungo termine nella collaborazione internazionale nei modi di volare nelle tattiche nelle strategie nei modi di comunicare anche che sono fondamentali quindi ottimo festeggiano la loro promozione hanno preso il brevetto basico infatti dietro vediamo un aereo a pistoni e penso che adesso inizieranno a fare un percorso sui jet andiamo avanti siamo in dirittura di arrivo sicorski come non amarlo ministro polacco appena ha fatto una dichiarazione con il dente avvelenato fra l'altro lui faccio un breve accenno è stato anche un inviato di guerra prima di diventare politico quindi è sicuramente una persona che sa il fatto suo ha appena dichiarato che hanno deciso di chiudere l'ambasciata russa in polonia questo come reazione ai continui tentativi di sabotaggio e di infiltrazioni da parte russa la polonia sappiamo bene che è una situazione difficile quindi i russi secondo sicorski stanno combattendo una guerra ibrida in polonia con continue pressioni e la situazione non è delle migliori ora la chiusura di un'ambasciata può avere diciamo un vantaggio nel senso è meglio evitare di avere personale russo sul proprio territorio però dall'altra chiude definitivamente i ponti quando devi cercare di comunicare poi non è facile farlo se non hai un'ambasciata comunque questa è la situazione come vi avevo riportato ieri il segretario della difesa haustin si è recato a kiev e questo è stato il suo discorso ve l'ho tradotto allora salve sono lloyd haustin segretario scusate abbasso il volume parla c'è un vocione che fa paura sono il segretario della difesa degli stati uniti sono tornato a kiev per la mia quarta volta e come segretario ed è davvero emozionante essere di nuovo qui a febbraio del 2022 dopo anni gli attacchi russi il presidente putin ha lanciato un'invasione totale dell'ucraina l'ucraina ha reagito e le truppe ucraine hanno dimostrato un coraggio e un'abilità incredibili e il popolo ucraino ha resistito mese dopo mese agli attacchi dei missili russi e dei droni iraniani questa è una città meravigliosa e ha sofferto molto ora l'esito della lotta ucraina è estremamente importante per la nostra sicurezza se putin otterrà quello che vuole sarà incoraggiato a tentare ulteriori furti in futuro furti di terreno si sa che putin vuole un mondo caotico e violento in cui dittatori e bulli possono spingere i loro vicini altrove e persino cercare di cancellarli dalle mappe ciò renderebbe l'america molto meno sicura quindi il presidente biden ha radunato le nazioni in tutto il mondo per aiutare l'ucraina a reagire da aprile del 2022 ho convocato il gruppo di contatto per la difesa dell'ucraina una coalizione di circa 50 paesi determinati ad aiutare l'ucraina e a combattere l'aggressione di putin e insieme abbiamo fornito miliardi di dollari di assistenza alla sicurezza per l'ucraina e abbiamo contribuito ad aprire la strada alla sua forza del futuro e la base industriale che consentirà all'ucraina di scoraggiare ulteriori aggressioni russe in futuro l'esito della lotta dell'ucraina per la libertà contribuirà a determinare quanto saremo tutti al sicuro negli anni a venire sono più determinato che mai a difendere un'ucraina libera e un'america sicura e un mondo più pacifico questo è stato il suo discorso come devo dire non è stato solo non è arrivato solo per fare chiacchiere ma ha portato un contributo di qualcosa come 800 milioni di dollari che verranno distribuiti in vari sistemi d'arma e daranno un'ulteriore spinta alla produzione di droni ucraina quindi questa è un'ottima notizia ripeto se diamo un'occhiata quasi la totalità ormai la maggior parte delle perdite da parte russa quando vediamo queste iconcine sono dovuti ad attacchi dronici dobbiamo ricordarlo quindi spingere la loro produzione di droni e significa infliggere ancora più perdite alla russia il che è un'ottima notizia allora per concludere così parlava dudayev non so se sapete chi è ma è stato un uomo politico uno statista e capo militare della cecenia durante gli anni 90 nel 1996 un raid russo agganciatosi sul suo telefono satellitare lo fece fuori quindi fu assassinato dall'aviazione russa e così parlava ed era il 1995 ho tradotto per voi sentite un po l'ucraina alla fine affronterà la russia a condizioni inconciliabili non in modo pacifico finché esisterà il fanatismo russo non rinunceranno mai alle loro ambizioni vogliono nascondersi dietro la storia slava come hanno fatto in passato presumibilmente per unire i paesi slavi prendere lucarina la bielorussia per rafforzarsi e poi andare avanti nessuno vuole essere in alleanza militare con la russia non solo militare ma anche nelle relazioni economiche politiche e persino commerciali perché ormai il mondo ha imparato a conoscerli a fondo e come il mondo ha combattuto il fascismo ora sta combattendo contro il fanatismo russo il russismo dice e questa guerra si intensificherà e non ha senso per i russi pensare di poter spaventare il mondo con il loro esercito i criminali e le armi nucleari perché tutti sono già spaventati tutti sono già passati attraverso questo inferno del loro fanatismo e i russi saranno rimessi in riga con la civiltà umana o smetteranno di esistere come nazione oppure devono mettersi in riga con la comunità mondiale i russi sono stati esposti di fronte al mondo intero in questo momento e non solo esteriormente ma anche dal loro lato più oscuro il mondo intero ha visto chi sono i russi e il loro fanatismo e quanto sia pericoloso per l'umanità stanno uccidendo civili che non hanno nessuna difesa stanno uccidendo da una distanza inaccessibile dall'aria e dall'artiglieria cancellando tutto dall'esistenza poi arrivano in quelle città e in posto e iniziano a rapire e saccheggiare prendono tutto anche la biancheria sporca la loro ideologia è più spaventosa del fascismo del nazismo e del razzismo più spaventosa di tutte le ideologie misantropiche l'unica nazione al mondo che non crede in niente che è senza anima immorale e indietro rispetto all'umanità senza speranza la cecenia è solo il pretesto ma in realtà questa è l'essenza della nazione russa nazione che è malata di una ideologia disumana tutto è distrutto in cecenia a partire dagli asili fino alle università dalle fabbriche più piccole a quelle di macchinari pesanti tutto è andato tutto è stato distrutto ma non è questo il problema principale la cosa principale è che hanno distrutto la fede nell'umanità né il popolo russo in particolare né la sua leadership sono capaci di realizzare la quantità di male che hanno commesso commettono e commetteranno se i russi non arriveranno a capire almeno per il loro bene per salvarsi dalla tragedia della guerra allora la guerra potrebbe arrivare nelle loro case e arriverà e le città russe bruceranno se i russi non arriveranno a capire si stanno portando da soli alla loro catastrofe con le loro stesse mani incoraggiando la criminalità dei loro leader politici oggi la russia è una cartagine che deve essere distrutta per diventare uno stato governato dalla democrazia e nella legalità e anche se non esiste una democrazia nemmeno lontanamente almeno dovrebbero rispettare i diritti e le leggi perché se non è così sarebbe meglio che scomparisse dalla mappa e dalla storia non c'è via di mezzo dice nessun compromesso noi io e tutti i ceceni stiamo guardando a tutto il male che stanno commettendo tutti quei russi quei criminali quei predoni quegli assassini li guardiamo con quello sguardo disgustato e sgradevole e nient'altro quindi cari amici con queste parole vi lascio penso che siano oltremodo profetiche e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate come sempre un abbraccio alla prossima grazie grazie